Professor Richeldi, negli anni passati sono stati dettagli a diversi settori della sanità, anche al suo, la pneumologia e anche al settore delle terapie intensive. Adesso ci stiamo attrezzando, mi pare anche molto bene. Quando questa storia, speriamo presto, sarà finita? Tutte queste attrezzature supplementari, che fine faranno? Serviranno? Certamente serviranno, perché almeno in parte copriranno quei buchi che si sono aperti un po' a macchia di leopardo, devo dire, nel nostro paese, in cui la regionalizzazione del servizio sanitario ha creato delle disparità tra regione e regione in alcune discipline. Chiaramente le pneumologie e le terapie intensive sono reparti ad alta tecnologia, sono reparti che richiedono alta specializzazione e quindi tutti questi investimenti, io ritengo che saranno investimenti che per il futuro, speriamo, non vengano buoni in situazioni drammatiche come queste, ma certamente contribuiranno a migliorare il nostro servizio sanitario nazionale. È vero che c'è un po' di confusione nella terapia? Dunque, sulla terapia va fatto un attimo di chiarezza, in questo senso, nei confronti delle malattie infettive noi abbiamo tre pilastri di combattimento. Il primo è il vaccino, ricordiamoci che i vaccini sono quelli che debellano le malattie infettive, ricordo il vaiolo, ricordo la poliomielite, ricordo che c'è un vaccino per un tipo di polmonite che è la polmonite da pneumococco, è un vaccino efficace. Sul vaccino si sta lavorando, ci sono molte notizie, molte agenzie di stampa si rincorrono, purtroppo servirà tempo, perché ricordiamoci che questo virus tre mesi fa era sconosciuto al genere umano. Quindi, primo, i vaccini. Secondo, sono farmaci che agiscono direttamente contro il virus, antivirali. E in questo senso abbiamo già degli antivirali che erano stati studiati per altri virus che vengono utilizzati nei nostri pazienti. Uno è Remdesivir, che era stato studiato per altri virus, che sembra dare risultati promettenti. Il terzo approccio che abbiamo è quello di ridurre i danni del virus, perché questi virus causano una iper risposta del sistema immune e in questo caso c'è un farmaco che si chiama Tocilizumab anti-interleuchina 6, che era stato studiato per una malattia infiammatoria come la tete reumatoide, che anche in questo caso sembra dare risultati per ridurre i danni. Quindi vaccino, antivirale e anti-infiammatori o riduttori dei danni. Ricordiamoci però che la ricerca sui farmaci è regolata, in primis a livello internazionale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Italia dall'Agenzia Italiana del Farmaco. E voglio ricordare che abbiamo un nuovo direttore dell'Agenzia Italiana del Farmaco, il dottor Magrini, che tra l'altro è stato reclutato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità poche settimane fa, che sta coordinando questa ricerca. C'è un trial su un antivirale, c'è un trial sull'antinfiammatorio, partiranno trial sui vaccini. Anche in questo caso il nostro sistema sanitario ha le capacità e gli strumenti e gli uomini, direi, per governare la ricerca clinica. Grazie a tutti.